Ciao a tutti! Io sono Eleonora e io sono Em e questo è il nostro canale di colori di Elna Oggi siamo qui con voi per fare insieme le unghie unicorno Sembrano difficili ma in realtà non lo sono Ecco che cosa vi serve Di base uno smalto rosa, qualsiasi rosa Uno smalto bianco Uno glitter E' un glitter, noi abbiamo scelto l'argento ma potete metterci tutti i colori che volete Invece per le decorazioni abbiamo il celeste, un rosa più scuro, un nero per fare la caccia e un giallo Ma anche qui potete un po' sbizzarrirvi con i colori che avete a casa Ovviamente poi servirà il lucido per fissare tutto alla fine Ma cominciamo Emma, dammi le tue mani Innanzitutto si comincia con il rosa E con il rosa andiamo a fare mignolo, indice e pollice Mignolo, indice e pollice Ci fa anche rima, toglice Pollice Eccolo qua Wow Indice Pollice, indice, mignolo Facciamo anche l'altra mano? Entra Tenta, pianissimo Mignolo Indice Ok Il rosa abbiamo fatto Chi vuole può fare anche doppia mano Se volete fare un colore più acceso Vado con il bianco e con il bianco Facciamo la testa dell'unicorno Che è Facciamo gli anulari Che lì sopra che andiamo a fare la faccina e il corno dell'unicorno Ecco i due anulari In bianco E per ultimo il medio sarà Glitter argentato Ecco qua Guardate che carino che sta avvenendo E ora l'altro Quanto è glitteroso Sì glitter 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 E adesso È il momento di disegnare il nostro unicorno Sono un unicorno Sono un unicorno Sono tutto bianco E solo che non mi si vede la faccina Allora andiamo a disegnare la faccina Utilizzo un pennellino piccolo Oppure anche uno stecchino da denti Se non ce l'avete Ecco qua le orecchie Gli occhietti Ecco qua Manca soltanto il colore sul corno Ma la faccina è finita Andiamo a farla anche sull'altra Allora adesso mettiamo il colore sul corno Si parte dal fucsia Anche qui usiamo un pennellino O uno stecchino da denti Guardate che unghia Ricolissima che ha l'emma E dopo il fucsia È la volta del celeste Ecco l'azzurro Ed ecco il giallo Mentre la prima mano asciuga Noi andiamo alla seconda Ed ecco che finiamo con un po' di lucidante Wow Ecco che è finito il lavoro Vediamo le nostre unghie unicorno Se questa parte vi preoccupa Esercitatevi sulla carta Basta fare due orecchie Il corno centrale E gli occhietti del nostro unicorno Chiusi con le ciglia Oppure se avete la unghietta piccola come Emma Potete anche non farle Noi siamo molto soddisfatte Se questo video vi è piaciuto Mettete un like Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E cliccate la campanellina Per essere sempre aggiornati Sui nostri video Ciao